sono le 13 ben ritrovati su schetti g24 a tutti buongiorno il tuo piatto forse questo piatto è un po asciutto una lacrima di odio ragazzi è 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 quello che vedete non è lo studio è casa mia queste da qui stiamo trasmettendo un telegiornale in diretta è è è è è è è in questi vent'anni abbiamo trasformato insieme la nostra casa ed è solo l'inizio da vent'anni è più bello tornare a casa con sky è è è è è è è è